Oggi è il 21 dicembre e diamo il benvenuto all'inverno con un personaggio molto conosciuto in ambito anglosassone, il signor Jack Frost. La tradizione letterale lo vede come il padre inverno o meglio come padre brina, colui che ha il potere di trasformare in ghiaccio e neve tutto ciò che incontra. Jack Frost è l'aiutante di Babbo Natale, è colui che aiuta le renne e la flitta di Babbo Natale a mimetizzarsi tra la neve. È anche un simpatico elfo, un personaggio che in maniera ironica e allegra sa farsi benvolere, sa portare allegria e neve nel Natale. A questo fanno riferimento molti film dedicati a Jack Frost, Le Cinque Leggende, uno dei più recenti e lo stesso film dal titolo Jack Frost. Questa dietro di me è un'incisione antica che ce lo fa vedere in sella al sole estriero con ghiaccio intorno a lui. Il ghiaccio di Jack Frost è in realtà un simbolo dell'inverno che però precede un caldo Natale, è la neve che aiuterà Babbo Natale ad entrare nelle case di tanti bambini e a rendere unica la magia del Natale.